Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Mettetevi comodi, perché quella che sto per raccontarvi è la storia di un ragazzo e del suo bellissimo e amatissimo deck. E dopo questa meravigliosa intro, il mazzo che vado a presentarvi oggi è un mazzo al quale io sono particolarmente legato. L'ho giocato per tantissimo tempo, mi è piaciuto tantissimo ed è il primo mazzo che ho letteralmente shoppato, quindi ho, possiamo dire, full golderizzato. Perché, ebbene sì, questo mazzo è composto principalmente da carte gold. Tutte le carte della serie gold per me sono un capolavoro di Mamma Konami, specialmente le prime 3-4 serie sono un capolavoro dal punto di vista di art. Sono bellissime da vedere, c'è chi le odierà, proprio le trova inguardabili e ingiocabili, ma per me sono l'apoteosi dell'art warring di Yu-Gi-Oh! Oggi vi porto in un viaggio nostalgia e vi presento il mio mazzo burattino. Allora, siccome l'archetipo, quindi il mazzo, sono abbastanza vecchiotti, non vi spiegherò tutti gli effetti delle carte, ma vi darò, diciamo, un'infarinatura generale. Questo perché il mazzo comunque non viene più giocato ormai da tantissimi anni, però per chi fosse interessato, io ve la butto lì. Quindi è un discreto for fun, non è anche un rogue, ma un discreto for fun. Se entrano le giocate riesce in qualche combo abbastanza spicy e può regalarvi delle gioie. Inizio quindi col presentarvi, diciamo, la star di questo mazzo, ovvero abbiamo Bambola Tetra. Questa carta è, oltre ad essere, bellissima. Può essere bandita, o meglio, può essere evocata dal cimitero bandendo un altro burattino. Ci interessa, sì, perché questo mazzo vuole ed è un spam di Xyz di rango 8. Per cui ciò che punta a fare questo mazzo sarà buttare sul tavolino quanti più mostri di livello 8 possibile per riuscire a calare tutti gli Xyz del caso. Lei è la prima che vorrete calare, è bellissima, fortissima, soprattutto perché è un 0 di attacco. 0 di attacco, target di Machine Dupe. Come vedremo ce ne saranno altri due, però da tenere a mente. Oltre a lei abbiamo un 3x di magnete, lui è un extender, ci entra gratis se controlliamo un altro burattino. Anche lui è un livello 8, quindi utilissimo per i ranghi. E poi, sì, cioè, è secret gold, quindi assolutamente un must. Ultimo ma non meno importante per la serie gold, gentilmente offerto da Mamma Konami, abbiamo Antidanti. Lui è la vostra normal, cioè la normal che farete sarà praticamente sempre lui. Quello che volete sempre vedere per partire durante le vostre giocate. Su normal o special ci permette di specialare un altro burattino dalla mano. Peccato che non sia un livello 8, perché sennò sarebbe stato davvero rottissimo. Però non è un problema il fatto che sia un livello 4. Abbiamo un altro livello 4 nel mazzo che fa parte della famiglia dei supporti. Però comunque ci regala una special in più. Possiamo eventualmente estendere le nostre giocate. Per cui io lo gioco a 3 proprio per questo motivo. Ci tengo a precisare che questa lista non è una lista aggiornata di burattino. Ma rientrando sempre nella categoria dei mazzi, diciamo, un po' retro, vi sto mostrando la lista che io giocavo all'epoca. Questo perché sono folle un pochino. Ma più che altro perché voglio condividere con voi la bellezza di questi mazzi. Vi invito sempre a lasciare un commento qui sotto per dirmi la vostra. Se vi piacciono le gold, se siete degli amanti sfegatati di questi bimbi di Mama Konami. Se proprio non le potete vedere. E soprattutto se avete o no giocato o quantomeno conoscete questo mazzo. Io personalmente, come vi ho detto prima, l'ho giocato, l'ho apprezzato. E mi sono divertito davvero davvero tanto. Continuiamo con due dei supporti che sono stati stampati. Ah, precisiamo che non è stato full golderizzato al 100%. Semplicemente perché i supporti che sono stati rilasciati da Mama Konami non sono arrivati in versione gold. Abbiamo supporto nuovo. Abbiamo Bambola Bisk. La possiamo invocare specialmente dalla mano scartando un altro burattino. E possiamo inoltre rimuoverla. L'avversario non può scegliere come bersaglio i nostri burattini che controlliamo con gli effetti delle carte. Ovviamente nel turno in cui attiviamo questo effetto. Cosa di cui mi sono dimenticato, ahimè, errore imperdonabile. Dovete ricordarvi che lei, quindi Bambola Tetra, ha una piccola clausolina. Ovvero, quando la utilizzate come materiale per un mostro XS, può essere utilizzata solo per XS di rango 8, chiaro, che però siano burattini. Lei è l'unica che ha la restrizione, mentre invece tutti gli altri mostri di burattino potete usarli per XS sia generici sia appunto che siano burattini. Continuiamo con il nostro secondo, ma ahimè, non sufficiente supporto. Abbiamo tre perdi Bambino Terrore. Lui ci dice che su Normal possiamo scegliere come bersaglio un altro burattino nel cimitero, ovvero occetto se stesso e lo evochiamo specialmente. Sostanzialmente ci fa da Reborn. L'effetto, diciamo, più importante è quello che parte quando sta al cimitero. Noi possiamo bandirlo e l'avversario non può scegliere le carte, o meglio, non può attivare le carte o gli effetti dei suoi mostri o delle sue carte in risposta all'attivazione dei nostri mostri burattino, sempre nel turno in cui attiviamo questo effetto. Quindi è, assieme a Bisk, un ottimo, diciamo, parino e ci permette di evitare che l'oppo, insomma, ci crei dei problemi lanciandoci interruzioni o altre carte che ci interrompono le giocate. Questo era tutto per quanto riguarda il reparto burattino. Se usciranno nuovi supporti sarò ben lieto di aggiungervi e aggiornarvi la lista. Extender interessanti. Gioco il 2 per di ingranaggio a molla, spirito ingranaggio a molla. Questa carta è veramente squisita per questo mazzo. Non la possiamo evocare, diciamo, normalmente, ma deve essere evocata specialmente dalla mano avendo solo mostri macchina nel cimitero. Una volta per turno possiamo scegliere come bersaglio un mostro scoperto che l'avversario controlla e il suo attacco diventa 0 fino all'end. Quindi utilissimo sia per chiudere le partite sia comunque per dare fastidio all'oppo ma quando spegniamo l'attacco di un mostro e possiamo utilizzare poi lui per fare un exis generalmente sarà per concludere la partita. Lo gioco a 2 e non a 3 perché 3 penso sia troppo breccoso. È un livello 8, è vero che entra praticamente a gratis però se capita che aprite di prima mano e non avete mostri al cimitero o non avete comunque carte da poter mandare al cimitero per poter attivare l'effetto una o più coppie di lui in mano sono morte. Per cui lo volete vedere sì ma non così spesso. Ultimo ma non meno importante abbiamo Gizmec Kaku lui è qui solo perché è un macchina che entra praticamente a gratis se nella zona mostri extra c'è un mostro. La cosa importante lui potete tranquillamente toglierlo e cattarlo per metterci quello che volete lui è qui perché ha un effetto interessante ovvero se nella zona mostri extra c'è un mostro noi possiamo rubare quel mostro lui equipaggiamo e se lui distrugge un mostro dell'avversario noi possiamo evocare specialmente quel mostro che abbiamo rubato cioè o meglio quel mostro che è stato equipaggiato quindi è utile per rubare mostri problematici al nostro avversario. L'aggiunta che potreste fare al reparto mostri di questo mazzo è utilizzare bestia fantasma mega lupo perché ci permette di evocare specialmente due token che poi possiamo convertire nel link di archetipo che vedremo qui. Passiamo ora alle magie io gioco il 2x di esibizione di burattini questa è fortissima ci permette appunto di sfoltire un po' il mazzo e ci dà un boost veramente veramente ottimo noi possiamo bandire un burattino dal cimitero e tutti i mostri che noi controlliamo diventano del livello del mostro che è stato bandito inoltre se uno più mostri burattino che noi controlliamo sono distrutti in battaglia o dall'effetto di una carta dell'avversario scegliamo come bersaglio uno di quei mostri burattini che sono stati banditi e lo evochiamo specialmente. gioco mono di burattino rottame e mono di burattino del cordoglio possiamo mandare mostri burattino con nomi diversi dal deck al cimitero fino al numero di mostri controllati dall'avversario che ha evocato specialmente dall'extra più uno. Inoltre possiamo bandirla dal cimitero per scegliere come bersaglio un XS macchina quel mostro non può essere distrutto dagli effetti delle carte dell'avversario mentre scoperto sul terreno è una di quelle carte che aumenterei sicuramente di rateo giocandola ad oggi e la giocherei addirittura in 3x sono onesto perché è una di quelle carte che sono in grado di ribaltarti la situazione specialmente se l'avversario ti cala 3-4 mostri da extra voi girate lei e vi imbastite un tavolino oltre agli extender o comunque le giocate che avete già in mano di primo di turno altra carta burattino rottame è sostanzialmente un mostro risuscitato che spoiler giochiamo in mono solamente di archetipo quindi ci riporta un burattino io gioco 1-1 potreste pensare magari di ecco se dovessi scegliere toglierei un rottame e metterei una copia in più di cordoglio però un risuscitato lo terrei sempre altra carta penso indispensabile per questo mazzo è sepoltura da un'altra dimensione la giocavo a 2 ma ho tagliato la seconda copia per una carta che al momento non ho perché mi deve arrivare ovvero carica anime sono entrambe utilissime hanno una sinergia altissima con questo deck sepoltura ci fa scegliere fino a 3 mostri banditi e le ritorniamo nel cimitero mentre invece carica anime è un finisher al pari di di cordoglio sostanzialmente noi possiamo evocare mostri banditi quanti possibile paghiamo mille per ogni mostro che è stato evocato però ci permette di rimpinguare tutto il tavolino rimbastire tutti i nostri x cicciosi e chiudere le partite per cui è assolutamente utilissima altra carta interessante giocavo mono fascino e mono velo fascino ci permette di pescare 2 e bandire 1 ovviamente la carta bandita deve essere un mostro oscurità velo ci dice che durante la draw noi possiamo se peschiamo un mostro oscurità rivelarlo mandarlo dal cimitero e poi pescare un'altra carta altra carta utilissima per questo mazzo sepoltura sciocca niente da dire vi mandate i pezzi che vi servono quando volete e quindi è un must da giocare sempre reparto peschini abbiamo 3 per di baratto niente da dire mi sembra un rato è un minimo sindacabile abbiamo tutti praticamente livelli 8 per cui non è mai morta in mano possiamo utilizzarla più di una volta per turno perché non è non è art once per cui ce l'abbiamo ed è un must giocarla a 3 poi abbiamo doppio duplicazione di macchine e questa carta ci porta potenzialmente degli xyz gratis ultima ma non meno importante delle carte magia abbiamo alzarango io gioco caos argento questa carta almeno questo mazzo ha bisogno di un reparto alzarango io gioco un repartino proprio striminzito striminzito all'osso però potreste pensare di portarlo di estenderlo di portarlo fino a 4 gioco lei perché oltre a essere gold secret quindi bellissima praticamente è luppabile ovvero ogni volta che noi facciamo un xyz e lei al cimitero ci torna in mano e quindi possiamo riutilizzarla per farci sopra il suo omonimo c altre carte alzarango possono essere la numeron force quindi l'alzarango forza numeron e la quick la chaos quick che sono anche loro molto forti soprattutto la chaos perché essendo una quick la potete fare nel turno dell'avversario l'unico problema è che appunto non vi tornano in mano per cui preferisco utilizzare un chaos argento perché è riciclabile e praticamente vi torna in mano ogni volta che fate un xyz passiamo alle trappole abbiamo il 3x di parata parata ci dice che se l'avversario controlla più mostre di noi possiamo evocare specialmente dal deck mostri burattino arnese con nomi diversi fino alla differenza inoltre se i life points sono di 2000 o superiori noi possiamo posizionare una magia normale alzarango direttamente dal deck per il resto del turno abbiamo una limitazione ovvero che non possiamo evocare specialmente mostri eccetto burattino ornese poi abbiamo 3 staple possono essere tranquillamente cattabili ovvero un solenne perché perché si fa sempre male fa sempre comodo specialmente quando l'avversario ci tira qualcosa una catena perché all'epoca ormai era fortissima ma la carta diciamo più bella è muro di numeri muro di numeri diciamo un must proprio per questo mazzo che gioca solo i numeri ci dice che la possiamo attivare solo se controlliamo un mostro numero i mostri numero non possono essere distrutti dagli effetti delle carte e non possono essere distrutti in battaglia se non con mostri numero entriamo nel reparto extra io gioco il 2x del link burattino ornese bambola chimera lo otteniamo con due mostri di tipo macchina durante la main phase se noi controlliamo questa carta che è stata evocata ovviamente il link noi possiamo attivare il seguente effetto non possiamo evocare specialmente mostri dell'extra per il resto del turno a meno che non siano i xyz di tipo macchina inoltre prendiamo un mostro burattino ornese dal nostro deck e lo aggiungiamo alla mano oppure lo mandiamo al cimitero quindi ci fa sia da sarcino sia eventualmente da foolish inoltre se tutti i mostri che noi controlliamo sono burattino ornese e ne vediamo quindi minimo 1 possiamo evocare specialmente un mostro burattino ornese dalla mano come evocazione addizionale sostanzialmente possiamo utilizzare qualsiasi mostro di burattino ornese una volta per turno e ci permette di fare sia fino a due evocazioni speciali addizionali sia eventualmente da sarcino e foolish quindi è veramente veramente utile lo gioco a due e non a tre perché non voglio appesantire più di tanto il reparto il reparto Xyz avete bisogno di questa carta? sì perché è una carta nuova è una delle carte nuove essendo appunto nell'era link ci dà sostanzialmente un po' più di velocità di manovra ci permette di arrivare prima i pezzi che ci servono per cui è un ottimo supporto però resta comunque un mazzo incentrato su Xyz quindi 2 lo trovo un rateo sufficientemente buono proseguiamo con mono burattino bambola gigantes lo facciamo con due burattini di livello 4 l'effetto ci dice che possiamo staccare due materiali e scegliere fino a due mostri controllate dall'avversario ne prendiamo il controllo fino all'end per cui è utilissima come finisher e per il resto del turno siamo loccati in special burattino possiamo offrire come tributo questa carta e tutti i mostri che controlli attualmente diventano di livello 8 fino all'end possiamo utilizzare ciascuno di questi effetti una sola volta per turno fortissima la gioco a 1 volevo portarla a 2 però abbiamo pochi mostri di livello 4 è molto situazionale e preferisco quindi portarla a lasciarla mono e non portarla a 2 vi serve per liberarvi solo di mostri problematici dell'avversario quindi la calerete raramente finalmente il momento di presentarvi i mostri cicciosi del mazzo quindi andiamo con i numeri vi presento doppio 15 15 lo facciamo con due mostri di livello 8 ci racconta che fino a due volte per turno durante la main phase 1 noi possiamo staccare un materiale e scegliere come avversario un mostro evocato specialmente controllato dall'avversario e lo distruggiamo poi se era un Xyz gli infliggiamo danno pari al suo attacco originale questa carta è fortissima era fortissima appunto nell'epoca degli Xyz ora un po' meno in quanto la maggior parte dei mostri sono comunque intergettabili o indistruttibili dagli effetti carte però resta comunque una buonissima carta la gioco in 2x perché 3 la trovo troppo troppo ingombrante quindi 2 penso sia il ratio giusto qui ci sono altri mostri che preferisco giocare presento la madre dei burattini ovvero numero 40 burattino arnese delle corde anche lei si fa con due mostri generici di livello 8 e il suo effetto ci dice che una volta per turno possiamo staccare un materiale per mettere un segnalino corda su ogni mostro scoperto che sta sul terreno eccetto se stessa poi una volta per turno durante l'end phase del nostro avversario possiamo distruggere i mostri che hanno un segnalino corda e infliggiamo 500 di danno all'avversario per ogni mostro che è stato distrutto da questo effetto potete pensare di portarla a 3 perché è un 3000 e quindi bitta e fa male perché potenzialmente fa anche danni da barn e come vedremo dopo potreste pensare di utilizzare solo C40 e 40 togliere magari qualcosa del reparto 15 e del reparto 88 che vi mostro adesso quindi ultimo ma non meno importante abbiamo il padre di tutti i burattini ovvero il king lui numero 88 burattino arnese del leone questo è più si gioca più per il meme che per la win è comunque una win condition ormai direi difficile da raggiungere in questo meta però all'epoca era comunque una cosa fattibile meno difficile rispetto ad oggi ma comunque fattibile ripeto sta qui più per il meme che per altro perché è comunque bellissima da vedere ma la calerete davvero davvero raramente numero 88 ci racconta che possiamo farlo con tre mostre generici di livello 8 una volta per turno se non abbiamo carte nella zona magia e trappola possiamo staccare un materiale e mettere un segnalino destino inoltre non possiamo effettuare l'abatto nel turno in cui stacchiamo il materiale quando questa è la win condition su questa carta ci sono tre segnalini destino vinciamo il duello sarà difficile non avere carte nella zona magia e trappola proprio perché come vi dicevo voi vorreste poter avere un muro di numeri per proteggervi proprio numero 40 per questo motivo è una delle carte che potete tagliare per tranquillamente mettere qualcos'altro proseguiamo con il reparto c li gioco praticamente tutti in mono pair potreste pensare di portare a 2 il reparto di 40 e cattare completamente il reparto di 88 terrei il reparto 15 proprio per lui ovvero c15 ci dice che una volta per turno stacchiamo un materiale e scegliamo come bersaglio una carta controllata dall'avversario e la distruggiamo se era un mostro gli infliggiamo danno pari all'attacco che aveva originariamente può essere utile per fare danni o chiudere eventualmente partite ma nel meta attuale trova poco spazio in quanto la maggior parte dei mostri ciccioni non hanno possibilità di essere distrutti dagli effetti delle carte proseguiamo con c40 buon sponsor va in combo con appunto 40 voi giocate 40 attivate l'effetto iniziate a spargere i vostri segnalini come foste un contadino nel suo campo nel giorno della semina attivate un alzarango vi evocate c40 e questa carta vi chiude da sola la partita è un 3003 è un rango 9 ma questo poco importa ci racconta che se questa carta viene evocata specialmente distruggiamo tanti mostri quanti possibile che hanno segnalini corda se lo fai peschiamo una carta e in più infliggiamo all'avversario danno pari all'attacco del mostro più alto che è stato distrutto una volta per turno possiamo staccare un materiale e mettere un segnalino corda su un mostro scoperto controllato dall'avversario quindi sostanzialmente arriviamo gliele distruggiamo e poi volendogli ne possiamo mettere un altro ultimo ma non meno importante abbiamo un c88 tutti e tre usciti da gold la series one quindi sono bellissimi gold e secret leone ci dice che deve essere evocato specialmente da un alzarango e dobbiamo scegliere come bersaglio un numero 88 nessun giocatore può sceglierlo come bersaglio con gli effetti delle carte e una volta per turno noi possiamo staccare un materiale e infliggere mille l'avversario durante l'end phase se i life points dell'avversario sono di 2000 o inferiori ai nostri e questa carta non ha materiali vinciamo il duello quindi è una win condition migliore rispetto all'88 normale perché inoltre ci fa danno da barn sostanzialmente questo reparto può essere tranquillamente tagliabile e ripeto poteste decidere di togliere appunto il reparto 88 e mettere 3 di numero 40 e 2 di c40 per farvi la combo del evoco 40 attivo l'effetto spargo segnalini ovunque attivo un alzarango e evoco 40 che distrugge tutto e tutti c15 lo terrei sia perché appunto distrugge e comunque infligge 1000 conteniamo un reparto numero con numero 38 generosamente offerto dalla gold serie 3 veramente bellissimo drago titanico galattico e chi più ne ha più ne metta c'è un nome veramente titanico facciamo con due mostre di livello 8 una volta per turno quando viene attivata una carta magia o un effetto sul terreno come effetto rapido annulliamo e se lo facciamo attacchiamo la carta che abbiamo annullato come materiale quando un mostro dell'avversario dichiara un attacco possiamo staccare un materiale cambiare il bersaglio dell'attacco su se stesso ed effettuare il calcolo dei danni se uno o più mostri xyz scoperti che controlli vengono distrutti in battaglia o dall'effetto di una carta possiamo scegliere come bersaglio un xyz scoperto che controlliamo e esso guadagna attacco pari all'attacco originale di uno di due mostri che sono stati distrutti non lo usiamo praticamente per il secondo effetto ma è utilissimo per appunto il negate di carte magia o effetto di mostro specialmente perché li nega e li ruba quindi è veramente utilissimo chiudiamo quindi il cerchio dei numeri con numero 68 anche lui lo facciamo con due mostri generici di livello 8 questa carta guadagna 100 di attacco di difesa per ogni mostro entrambi i cimiteri una volta per turno possiamo staccare un materiale e fino alla fine del prossimo turno dell'avversario questa carta non può essere distrutta dagli effetti delle carte inoltre nessun giocatore può evocare specialmente mostri dai cimiteri altro mostro che possiamo utilizzare in questo deck è Ding Gearsu motivo per cui è che è un macchina oscurità Ding Gearsu ci dice che se uno più carte che controlli stanno per essere distrutti in battaglio dall'effetto di una carta possiamo invece staccare un materiale e utilizzare uno dei seguenti effetti ovvero mandare una carta al cimitero che l'avversario controlla o attaccare come materiale uno dei mostri in macchina banditi quindi ci permette di riciclare i mostri che sono stati banditi e mandarci del cimitero altre carte interessanti ne abbiamo ancora un paio che non ho da farvi vedere perché non le ho ma ve le consiglio se riesco ve le metto qui sovra in pensione da qualche parte per cui questo è tutto per quanto riguarda il main deck ora passiamo alla scheda tecnica e poi facciamo un paio di considerazioni sul mazzo eccoci quindi alla scheda tecnica allora posso dirvi che ho giocato questo mazzo e assolutamente non è un mazzo difficile direi che non ha combo l'unica pseudo combo può essere se giocate mega lupo quindi attivate evocate mega lupo attivate l'effetto vi evoca i token vi fate il link e il link poi vi porta o vi evoca in base a quello che decidete voi altri mostri ma il core lo scopo l'anima di questo mazzo è un spam infinito di Xyz di rango 8 se riuscite a buttare sul tavolino con l'alza rango anche i C ben venga per quanto riguarda l'aspetto economico invece questo mazzo è uno dei mazzi in meno costo così in assoluto che però al contempo vi permette di avere anche una buona resa non è assolutamente dispendioso ha avuto tantissime ristampe per cui le carte sono facili da reperire io appunto l'ho ribildato praticamente quando ho voluto full golderizzarlo se possiamo dire così e per cui vi garantisco che le carte costano davvero pochi spicci e potete tranquillamente comprarvi tutte le carte core e anche le carte non di archetipo e costano veramente pochissimo per il fattore counteraggio questo mazzo è un XS spam che punta a portare dei grossoni ci sono delle interruzioni come date da numero 38 o eventualmente fattori di disturbo che possono essere dati da 15 o C15 o eventualmente giocarvi la combo con 40 e C40 però non sono particolarmente impattanti l'unica cosa che potete fare nel turno dell'avversario è numero 38 voi quando giocate questo mazzo volete e dovete partire per secondi perché se partite per primi come ho detto a meno che voi non viate il mazzo in un modo totalmente diverso non avete modo di stoppare le giocate dell'avversario per cui quando aprite la vostra mano se partite per secondi e avete troppi mostri livello 8 avete comunque la carta addizionale della pescata di turno che può aiutarvi a sbriccare giochiamo tanti mostri di livello 8 ma allo stesso tempo abbiamo tante carte che ci permettono comunque di pulirci un pochino la mano o comunque ci permettono di giocare per cui vi dico che il livello di bric è un livello moderato voi avete modo di iniziare le giocate ma questo è un mazzo ancora vecchio stile per cui è un mazzo lento che assolutamente non può competere con i mazzi di adesso ha bisogno di stallare ed è un mazzo che fa fatica proprio perché ha diverse marce in meno rispetto ai mazzi attuali noi non giochiamo perché non abbiamo spazio modo di permetterci di giocare entrap per cui qualsiasi interruzione l'avversario ci tiri noi siamo praticamente capottati bene siamo giunti quindi alle concentrazioni finali su questo mazzo cosa possiamo dire in più di quello che è stato già detto beh è un exis spam fragilissimo quindi non vi aspettate che le board possano essere board apocalittiche perché quello che vuole fare il mazzo è un exis turbo quindi cercare di buttare più exis possibili pulire il tavolino dell'avversario e fare otk nonostante abbiano stampato dei supporti nuovi non sono abbastanza per cui resta comunque un mazzo che arranca questo mazzo quindi è un valido for fun potete giocarlo tranquillamente con i vostri amici ma per essere competitivo ha bisogno di essere mixato con tante altre cose o giocato in un modo totalmente diverso quindi giocarlo in una maniera magari super counter con tante trappole perde anche un po' di quella che può essere l'anima lo spirito di questo deck resta il fatto che io l'ho comprato buildato e posso dire amato sia per il suo artur sia perché adoro le carte della serie gold che sono state gentilmente partorite da mamma konami e per cui vi direi a consiglio mio mi sono divertito giocando questo mazzo quindi qualche soddisfazione l'ho portata a casa poi se riuscite a chiudere anche con la win condition di 88 sono sempre belle risate queste erano le conclusioni risultone finale vi direi vale la pena montarvelo come al solito la risposta è dipende da voi se dovete scegliere un mazzo competitivo assolutamente no se volete invece un mazzo divertente da poter usare un po' alla volta con gli amici per variare dalle solite cose allora vi direi sì il datevelo queste erano le mie opinioni vi invito come al solito a scrivere le vostre opinioni qui sotto nei commenti lasciare un like se vi siete divertiti se vi piace il mazzo e soprattutto se come me adorate queste figurine tutte belle sbrillogicose e dorate e quindi niente io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video